Musica Hola ragazzi bentornati su Minecraft Pixelmon Ancora tuona Come dall'ultimo gameplay ancora tuona Allora ragazzi come sempre noi ringraziamo Gamehosting Che ci offre questo magnifico server dove appunto stiamo giocando Se dico stiamo perchè ovviamente non sono realmente da solo in questa serie Anche se ovviamente a maggior parte o quasi sempre sono da solo che gioco Ma comunque ci sono altre persone in questo server Potete trovare la lista nella descrizione del video E trovate anche il link per Gamehosting nella descrizione del video Nel caso magari vi servisse anche a voi un server di Minecraft Va bene Quindi Eravamo per l'appunto rimasti Qua Avevo da poco trovato Tutto sommato un set diamanti E l'esplorazione ragazzi continua perchè Andarsene ora sarebbe proprio Una cosa assurda Soprattutto quando c'è la possibilità di trovare Diamanti L'unica cosa è solo stare attento alla lava E di fatti qua guardate un po' che belle gallerie che ci stanno Non ancora esplorate Ho già di nuovo quasi finito il mio bel piccone E allora ne devo subito andare a costruire qualcun altro Mi serve anche un po' di ferro Eccolo qua A sto punto mi lo metto qua Faccio a contrario Questo lo tolgo Questo lo tolgo Questo lo tolgo Quest'altro lo tolgo Questo lo tolgo Tutta quella roba che magari mi può solo dar fastidio La tolgo Il diamante li togliamo pure Il pietrisco no Questo li tolgo Questo lo tolgo Ok giusto per avere un po' più Di spazio Ok Dunque Mi faccio subito subito due bei picconi Ok E quasi quasi me ne faccio anche uno di diamante Non lo posso permettere Ci sta Posso magari raccogliere l'ossidiana Eccolo qua Eccolo qua Guarda che bello Metto qua Quando sarà che mi serve lo uso Questo me lo porto Allora mi piace proprio Dai è proprio bello Sto posto è bello Perché comunque Dunque c'è un bel po' di roba da prendere E soprattutto Sto cominciando a godere Del fatto che trovo diamanti Se Se per i primi 30 gameplay Non ho trovato neanche un diamante Negli ultimi 4 ne ho trovati una ventina Se questa non è fortuna Ora giustamente Allora Allora L'acqua mi dà fastidio Scusate ma Poi se cade dalla sopra C'è poco da fare Però adesso Noi Che era Adesso noi Ovviamo a questo problema Ok E questo non mi piace Che è Ok Ecco fatto Quasi mi sono fatto una scala Ecco qua La mia ossidiana Il problema è che Sicuramente sotto c'è altra lava No No non c'è la lava Bene E allora Eeeh Lo vado a mettere Dai questo lo tolgo Comincio a prendere qualche blocco di ossidiana Che non ne abbiamo ancora neanche uno Quando ci vuole? 3 ore per spaccarne uno? Ok Speriamo che non c'è la lava Madonna mia Per raccoglierne un paio Ci vuole mezz'ora Oh c'è paura che C'è paura che Magari sotto c'è la lava E lo perdo O peggio Mi ammazzo io Ok qua Ok raccogliamo un po' di ossidiana Qualcuno mi ha detto Potrei anche fare La porta per il nether Però Eeeh Al riguardo Non so come è la situazione Regole Quindi vedremo Ma penso in teoria Non ci dovrebbe essere Nessun problema Penso Però poi vediamo comunque Anche perché comunque Eeeh Meglio non correre Ancora non neanche il letto Se muoio Non so neanche dove rinasco Quindi non corriamo troppo Concentriamoci per ora In teoria sulla casa Però con tutti i diamanti Che sto trovando Non sto neanche più riuscendo A fermarmi dallo scavare Oh madonna Dai ne raccoglio un altro E poi basta Poi ne raccoglierò altri più avanti Ok Boh ci accontentiamo Eeeh va bene Dunque 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 In teoria però Eh madonna Dai Non ci credo Ho detto in teoria Vicino alla lava Stavo a dire Ci stanno i diamanti Puff Guarda che te trovo Il diamante Madonna mia Ma ma che culo Quanti ce n'è Madonna Miii Ma quanto è bello Ma quanto è bello Otto diamanti Senza Oh no Non ho scavare Ho solo tolto un blocco Ho solo tolto un blocco Di pietra Ho trovato già il diamante Comincia a piacermi Sta situazione Cioè stavo per dire Adesso ragazzi Vediamo Tolgo qualche blocco Di pietra Magari Trovo Eeeh Puff Non ho neanche avuto il tempo Di completare la parola Che già ho trovato il diamante Bello 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 Ok Lo faremo Magari qua E adesso Ragazzi Niente Diamanti no Aspetta che c'è qualcosa Però Che è sta posto Che è sta roba Cos'è sta roba Ah è uno di quei posti Che già ho scavato Ok Allora qua c'è sì Altro Allora qua c'è Appunto la lava Oddio Niente Torno indietro Vado un po' qua Diamante Non ce n'è Pietra rossa Qualcuno ha detto Vicino alla pietra rossa Ci potrebbero essere Dei diamanti Non ci stanno i diamanti Ma c'è l'oro Buono Raccogliamo anche la pietra rossa Che magari dietro Ma ha fatto cagare sotto Dai datemi qualche diamante Oh c'è qualcosa là sotto Bene Vabbè sono lapislazuli Però c'è anche dell'oro Preferivo i diamanti Ok Nada Aia Lapislazuli sopra la capoccia Vale Ok vediamo un po' Dai Oh voglio i diamanti 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 Nicchia non si accontenta Appunto vuole essere L'uomo più ricco del server Ma non c'è nulla di qua Vediamo di qua Qua niente Nada Ok Ah vediamo qualche altro diamante Eh di qua non ci sono ancora andato Però aspetta Nada Però sento che vicino c'è la lava Niente diamanti Faccio un po' di buchi in giro Nada Ho avuto un po' di fortuna all'inizio Ora non ne trovo più Allora Qui ho trovato i diamanti Facciamo un po' di strada Liberiamo un po' la zona Che non si vede niente Che che è sto posto? Ok Niente diamanti Li abbiamo proprio finiti Aspetta c'è però C'è un po' di ferro Però magari dai scaviamo Dai magari c'è qualche diamante Qui vicino No Alla fine gira e rigira siamo sempre là Ok mi sa che non avrò altra fortuna con i diamanti in sta zona Peccato Di qua che cacchio c'è C'è altra lava No No Ma sto piccone si è già rotto? L'ho cambiato poco fa Ah forse era quello vecchio Boh ci rinuncio Mi sa che diamanti non ne troverò più Ci rinunciamo E andiamo Torniamo in superficie Dai che è meglio Ed ho un bel pezzo Che ormai me la faccio giù Però vedete che non riesco a resistere Nel scavare 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 Ma comunque casa dov'è? A 200 metri Allora Oddio qua c'è la lava Oh mamma mia Dì Se mi è buttato è qua Ma io di qua ancora non ci sono proprio andato Di qua Sì Appunto di qua Non ci sono ancora passato Come al solito abbiamo ferro a volontà Ma che What? Oddio Che posto è? Madonna Sto posto è enorme Ma no per scherzo Sto posto è veramente enorme Poi chiaramente io trovo oro Magari trovassi altri diamanti eh Sì ma qui Più vado avanti Che più trovo gallerie enormi Qua niente Qua niente Diamanti Cioè sono lì che Arriva in una zona nuova E comincio solo a cercare diamanti Oh mamma me stavo per buttare Non lo so neanche io Questo posto è veramente enorme Ma ora vado a trovare comunque un'uscita Madonna quanta roba Cioè automaticamente quando uno vede una cosa è invogliato a raccoglierla Ah bene Mo passiamo tutta la giornata qua A raccogliendo ferro Ah no Bauxite questo Però qualche diamante farebbe anche piacere se lo vedesse Ecco Già questo non mi piace Oh ma ci vuole tre ore Con questo non si fa prima Ma quanto cacchio ce n'è Ti pare che l'ho raccolto tutto Ah no Ce n'è anche uno per terra E madò Allora mi serve un altro po' di torce No ma basta Mi sono stufato Allora Vediamo se riusciamo un attimo a trovare l'uscita Perché io mi sono stufato di stare qua sotto Ah Vabbè però il ferro non lo posso lasciare Questo va sempre comodo Dunque che cosa mi posso inventare per uscire O mi faccio una scalinata ed esco Casa dov'è Casa è da là Ok Mi faccio un'uscita dai Mi sa che se fa prima che trovare l'uscita Invece se me la scavo io faccio prima Tanto almeno poi posso tornare a scendere di qua se vuoi Almeno c'ho una galleria che mi porto giù Sperando che non incontro la lava sulla testa Che è una delle cose che più odio A questo non mi piace neanche Speriamo che i ragnetti non li incontro Sento troppo camminare e mi sto preoccupando Sabbia acqua Oh shit c'è acqua qua sopra Ok allora Devo assolutamente fare Una galleria di emergenza Nel caso arriva l'acqua Così che non affuogo Ecco l'acqua Ok Ok Vediamo se riusciamo ad uscire di qua Prima di uscire di qua però manciamo Meno male che mi sono fatto sta protezione Sapevo che potevo finire a mollo Almeno così non affuogo Ok questa non mi piace Ok aspetta Ora va meglio Ora va meglio Ok la c'è casa Vediamo che di strada ne ho fatta Ok Torniamo a casa Quindi c'è un bel po' di diamanti Dunque Direi che faremo un viaggio per andare al market E venderò E venderò Tutta quella Pietra che mi ha avanzata Diamanti sinceramente non penso di venderli Perché comunque possono tornarmi utili I soldi per ora Non mi servono i soldi per ora Tanto alla fine Ok Certo che di strada ne ho fatta eh Diamanti ne ho trovati Un bel po' Ecco la mia casuccia Quanto è bella In tutta la sua bellezza Ciao Magikarp Tutto a posto Come va? Oh yeah Casa dolce casa Dunque Chiaramente qualcuno mi ha detto Nick sto blocco al centro Proprio non c'è sta Io gli ho ragione Effettivamente Quel blocco non c'è sta Intanto tolgo tutto sto pietrisco Zant Ah c'è un casino di roba Che devo sistemare C'è un mucchio di roba Che devo sistemare Non si capisce più niente 31 diamanti Quanto è bello Questo li togliamo Questo lo togliamo Ossidiana la posiamo Tornerà utile In gotto di ferro Zant Dirt Ok 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 Devo sistemare pure questi Allora diamo una mezza sistemata Dunque Qualcuno mi ha consigliato Di mettere quel tavolo In più Che mi avanza Al centro Allora il tavolo dove? Eccolo qua Potrei quindi mettere Sto tavolo qua Effettivamente ci sta Il vaso E i fiori No Aspetta Ah eccolo qua E i fiori Eh si ora ci sta Ok Poi vediamo cosa abbiamo Questo lo togliamo Questo lo togliamo Questo lo togliamo Questo pure Questo via Questo lo togliamo Questo lo togliamo Qua non c'è niente Allora I mattoni Li tolgo Togliamo tutte le fornaci Che oramai qua È brutta a vederle Bene Togliamo pure questo Oh E qua C'è un po' Più di spazio Poi C'è da decidere Cosa fare Eventualmente In sta zona Dunque La fornace Con Tutto il resto Eh Dove la faccio? Certo non qua Madonna che è quel coso Quanto è brutta Andiamo al piano Di sopra Dunque Fornace E tutto il resto Quasi quasi Faccio la zona Lavoro Sopra In soffitta Ok Volendo Potrei anche Farla qua La zona lavoro Oh no Si ci sta Un po' Nascosta Potrei farla Tipo così Un semi Nascosta Ci sto Riflettendo Ecco perché Uno dice Ma che sta Fanno Che sta Pensando Ma non è male Cose Ho le mie Fornaci Pronte All'uso Il banco Da lavoro In più Lo andiamo Magari a piazzare Qua Questo me lo tengo Per me Di riserva Lanville Lo piazziamo Lo potrei anche Andare a piazzare Piazzare Devo trovare Devo trovare Un posticino Carino Ma si lo piazzo qua Zona lavoro Queste Con vista Sul mare Tipo Ok Molto bene Dai Ok Così ho tolto Da sotto La roba Devo fare Poi le sedie Per le sedie Mi serviranno Questi Ma non è che So tanti Non vorrei dire Una fesseria Ma per farne Una Un pezzo Di lana Ce ne vogliono Quattro Quindi uno E due Ho solo due pezzi Di lana Me ne servono Un casino A proposito Facciamo una bella cosa Dovrei avere Anche un mucchio Di roba Che devo cucinare Quindi Tutta sta roba Che io dovrei Cucinare Qua mi pare Il carbone Mi servirà Ah c'è anche La lava È vero Si fa prima La lava Ok Qua c'è altro Sicuro Questo La lava Ok E non mi pare Che ci sia altro Da cucinare Boh comunque ragazzi Io ho finito Per il momento Il tempo A mia disposizione Dal prossimo gameplay Insomma Cercherò Quanto meno Di farmi un letto Andremo al market E cercheremo Insomma Di cominciare Un po' A fare le sedie Insomma L'allestimento Per la casa Ecco Quindi ragazzi Spero che anche Questo gameplay Vi sia piaciuto Come sempre Ragazzi Commentate Iscrivetevi Al mio canale Se non siete già iscritti E Sì E se il video Vi è piaciuto Se vi va Di lasciare Un mi piace Mi farebbe tanto piacere Ragazzi Io vi saluto Ci becchiamo presto Ok Ciao alla prossima Ciao a tutti